Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session di domenica 16 luglio. Sono le 22.34 e come vi dico da tempo, mediamente nel weekend sabato e domenica si lateralizza, poi si fa una piccola spike magari da qualche parte, poi si controbatte dall'altra e si rimane praticamente in un training range. Un po' noiosetto che però ci racconta tante cose, o almeno racconta a chi sa guardare i grafici, tante tante cose. Tra l'altro, una domanda, come mi sentite con questo nuovo microfono? Perché ne sto testando vari, sto tenendo quelli vecchi magari da riserva in un altro ufficio, per cui se volete darmi un risconto mi fa molto piacere come cosa. In ogni caso, avevo segnalato nel gruppo premium, per farci una risata, alle 19.45 di oggi, che se avessimo chiuso un t-1 inverso, ovvero un ciclo minimo a tre tempi e quindi con tre t-3 inversi, poteva succedere qualche cosa se l'avessimo chiuso. Che cosa è successo? Abbiamo iniziato a scendere, ovviamente, nei tempi ciclici corretti. Ricordatevi sempre che nelle vecchie dispense, non nelle nuove, che probabilmente arrivano la prossima settimana, potete vedere che bastano tre tempi per avere un t-1 inverso, ovvero un ciclo in media a quattro giorni di inverso, e poi ne può partire un altro. Se partisse soltanto un quarto t-3 inverso, avremmo poca spinta verso il basso, per ora non fa molto testo ancora la giornata, dovremmo aspettare magari le due, le tre del mattino da noi per capire che direzione hanno voglia di prendere. Se invece da qui partirà appunto un secondo t-1, comunque di strada ne ha fatta dai 30.484 ai 30.320, rispetto al resto del movimento, direi che qui e qui ha fatto più strada. Come vi dicevo, se sarà un nuovo t-1, avremo più spinta verso il basso. Se sarà soltanto il quarto t-3 inverso, avremo invece meno spinta e poi andremo di nuovo su a fare il nostro baffo. Cosa ci aiuterà a capirlo? Allarghiamo parecchio la nostra sezione, così si vede meglio, e ce lo diranno delle barriere naturali, delle resistenze naturali, come la media mobile a 50 periodi e la parte inferiore dell'acumo. Se invece penetreremo, conoscete già la regola dell'acumo, potremo andare a finire mediamente dall'altra parte, quindi dal livello inferiore a livello superiore. E se tornassimo in quest'area qui, però, oltre le 24 barre, avremo soltanto la chiusura del primo t-1 intero e non avremmo invece più spinta per la partenza dopo la chiusura di un t-1 a tre tempi. Vi suggerisco sempre, peraltro, di utilizzare la leggenda, se siete all'inizio, ma di memorizzarla, altrimenti diventerà sempre difficile come pensiero. Che cos'è un t-1? Ricordatevi sempre che cos'è un t settimanale, il trucco è quello. 6, 8, 11. Dividete per 2, ottenete un t-1. Dividete per 2, ottenete un t-2. Dividete per 3, ottenete un t-3. E anche t-3 è semplice, 24, 32, 44. Se vi ricordate questi due cicli con queste cifre, sarete a posto. Altra riflessione, sempre sull'inverso. Con il tempo che abbiamo in questo momento, da qui può partire qualcosa di più di un settimanale inverso. E noi, a quanto tempo siamo di un mensile invece lato indice? Perché qui abbiamo un'indicazione di dove possiamo essere. E manca qualche cosa a questo mensile lato indice? Perché è importante sempre che mettiate in correlazione sia il grafico a 45 minuti, quello per fare trading sul t-3, ovvero sui cicli giornalieri, che è quello sul grafico a un giorno. E il grafico a un giorno, ovviamente, l'ho girato al gruppo premium con la stessa domanda, con le stesse riflessioni. Perché? Perché questo è un gruppo totalmente differente dagli altri. In questo gruppo, come sapete, aiuto le persone a riflettere in base alle regole che hanno studiato. È un metodo statistico-matematico non discrezionale che permette di far lavorare il cervello. Perché? Perché non voglio degli zombie che mi seguono e che mi dicono Sì, come sei bravo, eccetera, eccetera. Va bene, fa piacere, ok. Ma preferisco avere invece persone attorno che mi dicono Jacopo, guarda, la centratura a me non convince per questo motivo. Oppure, soprattutto per i cicli superiori. Sai che potrebbe essere questo il discorso? Ed è per questo che ho fatto una bella pulizia nello scorso anno nel gruppo premium per togliere la gente che non era in linea con la filosofia del gruppo stesso e continuare a coltivare talenti naturali e persone che invece adesso rendono molto interessante il gruppo premium. Togliendo la figura del cosiddetto cagnaccio da un gruppo rimangono tante altre figure. Rimane il cavallo, rimane la scimmia. Rimangono persone che hanno talenti differenti, background differenti studi differenti, esperienze di trading differenti che quindi possono portare qualche cosa di più al metodo un po' come il nuovo, l'aggiornamento del Tecnica 2 di cui stiamo facendo i test e che continueremo ovviamente a utilizzare invece direttamente già su DAX S&P 500, Nasdaq e Oro che ci danno ormai da mesi non soltanto ottimi test ma ormai nella scorsa settimana buoni guadagni sicuramente. Ritornando a noi lato indice se qui come da centratura abbiamo avuto un settimanale il cui minimo è stato violato il minimo di partenza è stato violato la tendenza sarà più a ribasso che a rialzo e vi permetterà di dare una risposta alla domanda che vi ho fatto prima a che punto siamo del mensile cosa manca al mensile lato indice direi che è tutto ricordatevi che tra poco arriveranno altri cambiamenti ho finito di limare il regolamento ho finito sto aspettando un riscontro da avvocati e commercialisti e tutti gli altri per quanto riguarda altri discorsi relativi a un nuovo sito e quindi a breve ci saranno un sacco di altre novità e probabilmente non cambierà soltanto appunto l'Iban ma cambierà anche la mail per cui preferisco già avvisare anche voi oltre a quelli del premium che ci saranno tante altre rivoluzioni collaborazioni ed altro in arrivo come vi avevo promesso dalla fine del 2022 dalle idee si passa ai fatti e con i fatti si continua a crescere grazie per il vostro tempo auguro a tutti una splendida serata ricordando che se volete sapere in anticipo rispetto agli altri a parte chi è nel gruppo premium quando uscirà la night session o qualsiasi altra analisi o vi iscrivete direttamente al canale oppure vi iscrivete al gruppo telegram che ho utilizzato per sconfiggere e portare a zero i follower di una persona che utilizzava il mio nome e cognome per provare a vendere pacchetti di criptovalute stranamente chi lavora in un certo modo viene copiato da tutti e utilizzato tra virgolette da tutti per provare a fare truffe piuttosto che estorcere soldi alle persone quindi diffidate ovviamente di qualsiasi altra cosa con il mio nome che non sia appunto questo gruppo qua ok? con questo handle oltre 15.900 iscritti buona serata a tutti e buone riflessioni rispondete alla domanda nei commenti se avete piacere di ragionare con me arrivederci